Grazie a tutti. Raggiungerci qui al tavolo, oppure vengo io, è più facile, però in realtà l'unica cosa che conta è che loro sul campo vincono, quindi i risultati poi portano quest'aria tranquilla e serena che in effetti c'è e tutti ne siamo contenti. Grazie. Quanto nel male ha educato il pubblico di Pesaro. Questo è un grande vantaggio di Scavolini perché non ha fatto mai una dichiarazione dove ha sollevato, anche se ce n'erano i motivi per farli, perché per vincere due scudenti ne abbiamo dovuto vincere cinque. Grazie. Se non ci sono interventi, io a nome di tutti i consiglieri vi faccio per festività eminenti veramente un augurio. Quindi buone feste a tutti, vi lascio al caffè e approfitto della presenza del professor Federici e di Luciano per scambiare i nostri... Professore, se ci raggiunge Luciano, se ci raggiungi un attimo qui...